Ben trovati ai nostri telespettatori, siamo qui per una nuova puntata di Legal Corner. Oggi ci concentriamo sulla nostra rivista, le fonti legal, la rivista mensile che è dedicata agli avvocati e al mondo professionale in generale, che è appena uscita, quindi ci concentriamo sui contributi più interessanti che non mancano in questo numero. Partiamo dalla copertina che abbiamo dedicato a un avvocato penalista, Chiara Padovani, fondatrice dell'omonimo studio legale, con la quale abbiamo avuto una interessante chiacchierata proprio sul tema della corporate governance, perché le imprese sono chiamate oggi a una grande sfida, una delle tante di questo periodo, cioè quello di rivedere la corporate governance rendendola impermeabile ai nuovi rischi di carattere penale, come possiamo vedere più nel dettaglio dell'articolo, che questi nuovi rischi sono dati appunto sia dalle novità contenute nel decreto fiscale, sia da questa situazione di emergenza sanitaria. Perché? Perché da un lato il decreto fiscale 2020 ha esteso la responsabilità 231 anche all'ambito penal tributario, quindi con l'ampliamento del novero dei reati presupposti. E dall'altro lato la pandemia ha chiaramente innalzato il livello di rischio di commissioni di reati da parte delle imprese, quindi la sfida sta proprio nel rendere questi modelli impermeabili ai nuovi rischi di carattere penale. Andiamo oltre, un altro interessante contributo riguarda il tema della pirateria online. Come possiamo immaginare nei mesi del lockdown il fenomeno della pirateria online ha avuto un vero e proprio boom. Quindi abbiamo contattato e abbiamo sentito diversi avvocati, esperti del settore, ma anche general counsel, per capire cosa è successo e come si può combattere questo fenomeno. Già perché è un problema endemico proprio per l'Italia, che ha avuto con un più 66% di accessi, si è posizionata l'Italia in vetta alla classifica dei paesi con il più alto incremento nel traffico di contenuti illegali nel periodo che va da fine febbraio a fine marzo 2020, quindi in pieno lockdown. Come sappiamo purtroppo alcune regioni sono rientrate nel lockdown, quindi il fenomeno della pirateria probabilmente tornerà di nuovo a crescere in modo dirompente. Un appiglio per combatterlo, secondo gli esperti che abbiamo sentito, è dato dalla direttiva europea sul copyright, che in Italia entrerà in vigore il prossimo anno, quindi nel 2021. Ci siamo concentrati poi su un caso interessante, che è il caso Tolotolo, l'ultimo film, come sapete, di Checco Zalone, e questo caso ce l'ha raccontato Stefano Longhini, che è esperto di pirateria, che lavora in Mediaset. Mediaset che ha avviato la prima azione legale preventiva volta a contrastare il fenomeno della pirateria sul film, appunto, Tolotolo, quindi prima che uscisse nelle sale a dicembre 2019. Ecco, andiamo oltre. Un altro contributo interessante che potete trovare sulle fonti legal e che vi abbiamo anticipato nell'ultima puntata, nella scorsa puntata di Legal Corner, riguarda il sondaggio che abbiamo effettuato su circa 5.000 avvocati che abbiamo interpellato e a cui abbiamo chiesto cosa pensassero effettivamente di come, appunto, gli organi di rappresentanza hanno svolto la propria attività istituzionale durante il periodo dell'emergenza sanitaria. È stata una bocciatura, come potete leggere, su tutto il piano e quindi sono coinvolti il Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense, Ordini Territoriali e anche l'associazione che rappresenta gli studi legali d'affari. Una stroncatura che, come possiamo vedere, apre le porte a una riflessione più generica, diciamo più ampia, che riguarda proprio il sistema degli ordini professionali. Sì, perché, appunto, da un lato, come, insomma, ormai è un dato di fatto, c'è stata una mancanza di sensibilità da parte del Governo alle esigenze e alle istanze delle libere professioni e dei libri professionisti. Dall'altro lato, però, ci sono stati proprio anche dei demeriti interni alle singole categorie professionali. Quindi, la questione che oggi si pone in modo dirompente è proprio questa, che leggete nella frase sottolineata. Il sistema ordinistico, così come è stato concepito ancora, appunto, negli anni 30, quindi quasi 100 anni fa, e che ben poche volte è stato riformato, o meglio, controriformato, è ancora attuale oggi? Sarà in grado di resistere a questa drammatica crisi? Bene, io vi lascio con questo interrogativo e vi ricordo anche dove potete trovarci, dove potete trovare le fonti legal, che è disponibile nel classico formato cartaceo, che trovate nelle principali edicole, o che vi possiamo spedire noi, facciamo anche, appunto, questo servizio di, tra virgolette, delivery. basta di scriverci ad abbonamenti, chiocciola, lefonti, punto, it. Le fonti legal è disponibile, chiaramente, anche in formato digitale e gratuito, e in quel caso basta iscriversi alla nostra newsletter, che, appunto, come fare, compilate il modulo che trovate sul nostro sito, lefonti, punto, legal. Ma siamo anche sui principali social network, quindi Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, insomma, ci trovate ovunque. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.